BELLO A TUTTI RAGAZZI E facciamo una modalità che non ho mai fatto perchè è davvero bella eh Proprio eh si esatto Avanti arriviamo Quale vogliamo fare? Dimmela tu Deathmatch a squadra che sicuramente finiremo contro Va bene Arriviamo subito Ok ragazzi eccoci qua la partita iniziata da 15 secondi e siamo pronti Eccolo qua il dream guardate che bello Certo non ti pubblicitare non ti spammare da solo tranquillo Te l'avevi detta Certo certo A parte spam e scherzi Ehm purtroppo è stato il devasto Mi pare che erano 70 90 12 40 Così Però l'hai fatta Ok Siamo pronti Cioè io sto girando Sono pronto dall'inizio E ne uccisi due E poi ho fatto Cioè io sto qua davanti È la mia occasione Sì Adoro lo ste E' brutto di sto gioco ragazzi E' che spawni a cazzo di cane Mettito gli avversari addosso E' questa cosa è oppure viceversa Mentre noi per dire Siamo fermi Sponiamo in mezzo ai nemici Ci ammazzano Ci massacrano Noi chiamo fermi e spawniamo Sì Cioè io po' Noi chiamo da una parte Che ci stanno indietro Devi capire che c'è tot Il mio italiano non è perfettamente Muori Ok ragazzi Io sto facendo Sento ammettere un'ottima partita Sono già 5 kg Ma ora non so ero Ah io credo che sto andando bene Controllate Ecco No dico controlla Eh giusto Ok sono le mie perle Le mie piccole perle di ignoranza Questo video è bello Cioè sarà bello perché E' pieno di ignoranza Di fagottate Di commenti su Fagottini Buoni fagottini Madonna Ma perché c'è Ma vedete una cosa Perché stiamo parlando di fagottini C'è stato un C'è stato un momento Ho pensato alle girelle Come sta a proposito Questo ci sta facendo un segotto Che fai ti nascondi No Mi hanno sciolato la kill Bastardi Stanno tutti tipo a Sbettere in fondo Cioè non c'è nessuno E' come quando è l'obiettivo E tu spawni a 200 metri Quando quelli sono a 2 E' un attimo a 20 metri La tristezza ti viene Dici ma perché sono così lontano Spawni fuori dal mondo Mamma mia Siamo Ok io mi sto dirigendo Nessuno Due nemici Non so cosa farò Sono mostro subito Ma ecco La tristezza ti va Per il po' Non so cosa No cavolo E pensa che lui non stavo neanche Non giocando Mi hanno ucciso ragazzi Allora Allora Esatto Vedete che siamo dei ploplaia Nel mangiare i panini Nella mamma Best gamer ever E' Adamo Scusate Vi prego non le faccio più Vai Vai Dream Dream Guarda C'ero io accanto a te Non mi hai visto Guarda questo che mi ciola la kill Lo stronzore Come ti permetti Chi c'è Girati 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 No 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 Non mi abbandonare Amore Mi chiamiamo Ci vado io Aiutami Sono qua Ne ho ucciso uno Ne ho ucciso Eh beh Questo sono morto Perché ne ho ucciso Uno Ben teoria è di guerra Uno sparatutto Ben teoria si E' un gioco Ti vendico io 250 Buono No Cavolo Manco un minuto esatto Mi sento come a capodanno No Ti vendico io Scherzo 8 secondi Ce la posso fare Lancio una granata per la pace No Secondo Beh Eh vabbè dai Se ne è meritato a lui Ha fatto più ci se non è giusto così Bene signori Il video può finire qua Se vi è piaciuto Lasciate un like Un commento Condividete E passate dal canale di Dream Mi raccomando In descrizione E Bella Ciao Mhahaha